Voltati, sono s... Mi viola le regole, viola le regole. Alcuni violano comunque le regole. Quando mi vedono capiscono subito che sono un ribello. Ma preferisco essere considerato un asino. La fedina penale di Rodol si snoda nell'arco di un desnoglio. Spaccio, rapiccio, aggressioncio. Le condanne sono condanne, ma le condanne lo hanno reso un bar, lo hanno reso la sua ragazza, lo hanno reso un libero. Ho pure preso a calci sul collo e sulla schiena intenzionalmente la mia ragazza. Nessuno tocca un pedofile. Oggi Ragolz è atteso a un cesso. Ti avvicini al bancone. Ti avvicini. Ti avvicini. Caso numero 0000. C'è qualcosa di pertinente che desidera dichiarare? Hello, my name is Hentai Lumi. I am a cyborg. Quando esco dal complesso, ovunque mi mettano, in un qualsiasi braccio della prigione, dentro ci saranno i pannolini con i denti. C***o. Che c***o. Mi hai rotto le p***e. Mi hai rotto le p***e. Grazie a tutti.